Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono DuelTube Channel e vorrei finire un pochettino il discorso iniziato l'altro giorno parlando di Dominaria Unita fermandomi a parlare un pochettino un po' più nello specifico di quelle che sono le carte, le prime carte che ci sono state mostrate e presentate inoltre vorrei anche citare un paio di carte extra giusto per rendere un pochettino il discorso delle carte presentate la settimana scorsa completo quindi vorrei iniziare da toccare il reame degli spiriti che non c'entra nulla con Dominaria ma faceva parte delle promo di Dominaria e onestamente era di Kamigawa, io non ho parlato molto di Kamigawa quindi volevo un pochettino riprendere in mano e parlare anche di questa carta mi piace, mi piace parecchio, sostanzialmente è un Oblivion Ring però con l'abilità extra del channel che ci permette di blinkare quando ci serve un permanente in particolare ad esempio una creatura quando ci stanno per fare una vratta quindi salviamo una creatura oppure un artefatto che se ci stanno facendo addio come vratta che è leggermente un pelettino troppo spanata perché puoi scegliere tutti quanti i modi e togliere tutto quanto il campo e il cimitero in questo modo ci permette di salvare un artefatto ehi, meglio di niente l'altra carta fa sempre parte della sezione delle promo che forse di questa avevo già parlato ma non importa perché ne voglio continuare a parlare il condottiero proletario è una carta bellissima mi piace un sacco forte di per sé in mille mila cose anche se purtroppo alla fine risulta semplicemente essere un power creep di Tractask che all'epoca sua ragazzi posso assicurarvi che Tractask già di per sé era un power creep non da poco c'era stato un momento nello standard in cui era la carta più giocata e c'era un mazzo, se non ricordo male, che giocava 4 Restoration Angel 4 Tractask 2 a... non mi ricordo, mi si chiama quell'angelo gigantesco a costo 6 che esilia carte dal terreno e dal cimitero e praticamente faceva un loop completo e eterno di quella carta là era troppo forte questo è addirittura un power creep del power creep e sottolineo questa carta perché è forte, mi piace e perché va detto va detto perché questa carta è un power creep? ottima domanda grazie innanzitutto ha lo stesso costo di Tractask e le stesse statistiche ma travolge quando entra nel campo di battaglia ci fa guadagnare meno vite è vero quando però muore e se lo giochiamo con l'abilità Blitz muore di sicuro e ci fa pescare una carta sopra che sono sicuramente dei plus dei plus quando muore crea una pedina creatura guerriero rinoceronte 4-4 quindi quando muore e ci peschiamo una carta ci lascia giù anche una pedina 4-4 che sostanzialmente è questa la roba sbagliata e volete sapere perché è la cosa sbagliata? perché quando c'era Tractask che lasciava il campo di battaglia e quindi non necessariamente moriva ma poteva anche essere blinkato dal Restoration Angel ci metteva giù una pedina 3-3 in un meta in cui tutti gli spari più mediamente giocati potevano fare almeno 3 danni questo invece oltre a pescarci sopra ci lascia giù una pedina 4-4 in un meta dove lo sparo medio ovviamente ci sono delle eccezioni fa 2 danni e ci pesco sopra e ci guadagno anche vite non tante come Tractask ma e ci guadagno vite ok questo era il discorso Power Creep parlando delle carte esclusivamente di Dominaria io vorrei iniziare col Devastatore di Sheev perché di quelle tre carte mostrate è l'unica che mi abbia veramente deluso ed è dura riuscire a deludermi con una carta del genere X, un mana rosso, volare rapidità il Devastatore di Sheev entra in campo con X segnalini più 1 più 1 che vuol dire che sostanzialmente possiamo giocarlo di secondo come un 1-1 rapido volante oppure di quinto turno come un 4-4 rapido volante oppure di ottavo turno come un 7-7 rapido volante che è tantissima roba ma non è abbastanza di per sé nel vuoto l'idea di avere un potenziale XX rapido volante quindi evasivo è importante come cosa in realtà purtroppo vedo troppe poche keyword su questa carta che essendo una mitica per poterla vedere e considerare completamente competitiva gliene servirebbe almeno una forse 2 in più e quali sono queste keyword? beh, per immaginarle io farei una comparazione con un'altra carta molto molto simile a questa per quanto riguarda il testo che è l'idra solcanebbia o come mi piaceva chiamarla a me nell'epoca dei tornei di standard dei Teros l'idra fendinebbia non può essere neutralizzata rapidità, protezione dal blu la vedete la differenza? non può essere neutralizzata protezione dal blu che sostanzialmente in quello standard voleva dire protezione da Detention Sphere sostanzialmente potrei rinunciare a quella protezione dal blu o quella semplicemente protezione da un colore generico io vorrei che fosse protetto dal bianco perché altrimenti di turno 4 inizierà tutto quanto tutte le mie creature a morire stronze da Imperatrice Viandante se le porta via se non hanno protezione dal bianco se non hanno tipo cautela se le porta via tutte e anche questo è un grandissimo problema però traderei volentieri quella protezione dal blu lasciandogli l'incounterabilità anche per mettergli tipo un travolgere quindi volare rapidità incounterabile protezione da X spero bianco oppure travolgere in quel caso e mi verrebbe da dire solo in quel caso questa carta che è una mitica secondo me diventerebbe competitiva e giocabile se sto esagerando con le mie sparate fatemelo sapere sotto nei commenti del video ma in realtà ho un po' il terrore che alla prova del 9 non sarò io da aver sbagliato troppo un'altra carta che secondo me ha molto potenziale ma va un pochettino inquadrata è il dormiente evoluto umano 1-1 mana nero diventa un chierico 2-2 con 2 mana diventa un chierico con un segnalino tocco letale umano pirexiano 3-3 con 3 acquisisce un segnalino più 1-1 addizionale quindi diventa un 4-4 poi pesca una carta e perda una carta che tantissima roba è la nuova ennesima versione della figura del destino però monocolor e soprattutto con un sottotipo interessante che è un umano però la andiamo a giocare in umani da modern? no decisamente no perché anche se tecnicamente umani è un quadricolor barra pentacolor le terre di umani non hanno la possibilità di darci mana colorato specifico per le abilità e in realtà anche se andiamo a guardare quelle del pioneer non è che ce ne siano così tante ok c'è il cortile appartato che ci consente di aggiungere umani qualsiasi colore per lanciare una magia del tipo di creatura scelto per attivare un'abilità di una creatura o di una carta scelta del tipo scelto sì ok abbiamo 4 carte però no non sono quelle 4 carte che mi permettono di rendere questa carta performante in umani ha sicuramente del potenziale ha sicuramente un buon sacco di robe da fare però bisogna trovarci il mazzo giusto che forse potrebbe essere il famoso challenger deck orzov human da pioneer ultima ma non ultima giaia negoziatrice ardente è un altro planeswalker a costo 4 con 4 abilità e secondo me sono anche forti p1 faccio un monaco 1-1 con prodezza allora già qui mi devo fermare perché questa cosa è forte indifferentemente dal fatto di giocare in monored una carta che crea creature con prodezza purtroppo non possiamo fare a meno di non parlare dell'elefante nella stanza la pedina è bella ma la pedina soprattutto è sinergica in mazzi con trasfigurare e creatività indomabile che ci permettono di giocare tipo una monocreatura che è una chiusura nel mazzo un sacco di non creature generatrice di pedini nel mazzo tirarci quella far entrare il mega ciccione che tipo in moda potrebbe essere un emrakul in pioneer onestamente non lo so non ne ho idea e non voglio nemmeno saperlo e solo per questo fare danni i colori sono anche giusti perché di solito con i mazzi con trasfigurare si giocano jeskai o boros esili prime due carte meno uno esili prime due carte del tuo primorio scegli una di quelle carte che puoi giocare quella carta in questo turno praticamente ti aiuta a cercare i pezzi di eventuali combo mi sembra un po' tanto forte scegli una creatura avversario controllata da un avversario ogni volta che attacchi in questo turno jaya infligge danni a quella creatura pari al numero di creature attaccanti che è situazionale non è forte come il meno 4 della chandra torcia di sfida però secondo me è un time walk perché tipo io bersaglio una creatura dall'avversario ok se l'altro tipo sta sciamando perché ha tante creature vuol dire che gli tolgo una creatura se poi ho mana per tirargli anche il removal c'è rischio veramente di decimarlo c'è una removal in più sostanzialmente anche se piga con una sola creatura intanto si becca un danno poi magari con qualche altra carta con qualche altra mana riesco a fargli quei danni mancanti meno 8 ottengo un emblema che dice ogni volta lanci una magia rossa copiala due volte perché se non copi le spell con questo gioco a Amaro e a tutti quelli che creano le carte di Magic non viene duro sostanzialmente il discorso è quello ok ragazzuoli ho detto quello che dovevo dire ho parlato anche forse un po' troppo fatemi sapere se ho parlato troppo ma anche se ho parlato giusto sotto nei commenti del video mi raccomando mi piacete e condividete questo video tornate indietro nel tempo a riguardarmi i miei vecchi video che più aumentano le visualizzazioni più io sono contento ci vediamo alla prossima volta